buongiorno ragazzi mi raccomando per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis con un semplice click per voi è un gesto da nulla per me è importante click su iscriviti vogliamo arrivare a ventimila iscritti e questo è l'obiettivo che io mi sono posto portare questo canale a ventimila non dipende solo da me dipende molto anche da voi se avete voglia di fare un un semplice click qua da questa parte qua campionato falsato ma ne stiamo vedendo di senza fare piangina ma ne stiamo vedendo di ogni anche perché io tra l'altro parlando proprio di Bologna Milan Bologna è una città che conosco benissimo dove ci sono spesso per lavoro ho dei clienti lì e eh non si capisce perché venga riviata questa partita quando stasera a Bologna eh c'è un evento eh che si chiama Bologna eh boxing eh night ed è un evento a cinque chilometri dallo stadio ma come se non bastasse di eventi ce ne sono due c'era un altro evento moto d'epoca a Bologna Fiere posto dove sono stato centinaia di volte sempre per lavoro Bologna Fiere moto d'epoca c'è un evento anche oggi e domani e parliamo comunque di luoghi anche Bologna Fiere mi sembra cinque sei chilometri dallo stadio correggetemi se sbaglio quindi di che cavolo stiamo ragionando qui io è quello voglio capire io voglio capire di cosa stiamo ragionando cioè c'è certe scelte con quale cognizione di causa vengono prese per cioè è falsato perché quelli c'hanno le squalifiche ora e giovano con il Napoli e c'hanno ancora con le squalifiche lì mentre contro Bologna le avrebbero azzerate perché dico io perché perché ma ma che ma è un'organizzazione da terzo mondo questa qui l'organizzazione del campionato italiano è un'organizzazione da terzo mondo poi dopo continuate a venire a rompere i coglioni con la marotta league tra l'altro terremoto inter nessun terremoto ma non usiamole nemmeno poi queste parole brutte terremoto inter come mai va via Antonello in questo canale sono due anni che diciamo il primo a partire sarebbe stato Antonello in proiezione di perché guarda ti do le due versioni perché a me a me farebbe comodo darteli solamente una diversione e invece io sono una persona onesta e tenendo due diversioni perché va via Antonello Antonello va via anche perché potrebbe anticipare i tempi prima dell'arrivo della nuova proprietà anche per strategia personale perché magari in una tra una settimana si è a casa alla Roma o magari si ricolloca da un'altra parte dall'altro all'inter dall'altro ragazzi all'inter vanno via una serie di figure c'entra il discorso della nuova proprietà sì ma guarda ti voglio anche dire potrebbe anche non entrarci io parlo di un arrivo imminente subito ora nel giro di un mese queste figure che magari sanno che comunque di non far parte più dell'inter del futuro sapendo che è vicino magari il cambio di proprietà lasciano per trovarsi altri accordi e per formare un altro board da un'altra parte quello che dico dall'altro lato del cambio di proprietà vedi ora 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 passo alla seconda versione è che solitamente quando cambiano così di netto eh capo area marketing capo area comunicazione amministratore delegato generalmente questo accade quando c'è un cambio di proprietà in atto questa è la seconda versione e ti ho dato la prima mi raccomando eh bisogna scindere le due cose ti ho dato la prima versione e e e e la seconda Oktri si sta organizzando Oktri non sta organizzando nulla Oktri sta gestendo un'azienda e l'azienda dal lato sportivo e tecnico la sta portando avanti Marotta Oktri non si organizza per il futuro perché nel futuro di Oktri non c'è l'Inter Oktri sta gestendo un'azienda eh prima di venderla è quello e sta facendo un grande lavoro in termini economici andiamo dal lato calcistico lo so che non investono sulla squadra chi diceva mercato da nove o da dieci quest'estate era di parte oppure ha esagerato troppo con l'alcol durante le vacanze estive perché questa è una rosa lì tra due squadre sì una è una squadra di golf e una è una squadra di calcio perché ce ne stiamo accorgendo tutti no anche dico a dio quest'estate dicevo guardate non so nemmeno se siamo più forti dell'anno scorso giuse ma cosa dici ora poi succede sempre se se o se sì in effetti è vero è vero di qua ed è vero di là si parla in conclusione di video ti dico si parla di Federico Chiesa l'ho letto stamattina su un giornale allora Federico Chiesa zoppo e con la febbre è meglio dei dei tre dopo dei tre panchinari diciamo dopo Lautaro Martinez e Tunam Federico Chiesa è un giocatore da ricostruire secondo me ha sbagliato ad andare in Premier perché non ha più il passo non ha più l'esplosività per fare la differenza in Premier perché lì devi fare la differenza mentre in un campionato come la Serie A seguimi Federico Chiesa all'Inter con quei tre che abbiamo noi zoppo e con la febbre sarebbe titolare rispetto a quei tre è un giocatore da ricostruire secondo me anche a livello mentale non è più un giocatore da usare sulle fasce perché ha troppi infortuni il suo fisico diciamo che è stato penalizzato dai tanti dai troppi infortuni muscolari tra l'altro apriamo una parentesi ci sono tanti cominciano ad esserci troppi infortuni muscolari anche all'Inter bisogna forse capire bene cosa è stato fatto in preparazione di sicuro come ho detto ieri è stata fatta una preparazione in proiezione finale di stagione per arrivare più in fondo possibile alla Champions ma incominciano ad essere troppi infortuni muscolari tornando a Chiesa Chiesa è un giocatore da ricostruire mentalmente fisicamente e da cambiare ruolo Chiesa sarebbe perfetto per noi perché perché salta l'uomo crea superiorità numerica vede una volta perché a me non me ne frega una sega se l'attaccante corre l'attaccante deve tirare in porta l'attaccante deve tirare in porta non me ne frega una sega se corre se no ci metto un cavallo lì l'attaccante deve tirare in porta e fare gol Chiesa è uno che la porta la vede la vede anche quando è piccola così da trenta metri si gira tira in porta a destra a sinistro salta l'uomo in un campionato in un campionato come la serie A ricostruendolo un attimino e di Zagli lo saprebbe fare bene mentalmente fisicamente mettendolo seconda punta mettendolo seconda punta potrebbe tranquillamente Chiesa far ruotare la tula a differenza di quei tre cercatori di funghi che abbiamo in panchina con tutto rispetto e senza offesa quindi se è vera questa voce io non faccio faccio mercato non ho fonti di mercato non lo so se è vera questa voce che Chiesa è prendibile andatelo a prendere a piedi e ve lo ripeto se bisogna liberare un posto all'altro spacco il computer questa è una mia opinione lo posso sbagliare io la penso sì se bisogna liberare un posto il primo tra Taremi Correa e Annatovic che ha una richiesta lo fai partire uno dei tre tanto c'è po' la differenza tra tutti e tre Annatovic l'abbiamo visto ma anche tra gli altri due c'è po' la differenza siamo su quel livello lì te lo dico io perché te lo ripeto per quello che riguarda l'attaccante iraniano che ora tutti sul carro di Giuseppe con Taremi non me ne frega nulla del carro Taremi Taremi è un attaccante mediocre per un campionato mediocre come quello portoghese dove Gioao Mario fa venti gol Taremi che va per i trentatré anni nel duemilaventicinque è un giocatore che nella sua carriera ha avuto due anni buoni in Portogallo il Portogallo il campionato dove Jackson Martinez era un fenomeno e fu venduto a settanta milioni andò in premio Renovite Palla un campionato dove Gioao Mario fa venti gol dove Quaresma era paragonato a a a Maradona è venuto da noi non ha visto palla quello è un campionato mediocre per come la vedo io Taremi è un giocatore mediocre per un campionato mediocre poi ci può dare una mano certo corre lotta eh comunque lo metti lì ma qui si sta paragonando Taremi col Correa e Arnazovic cioè te Taremi lo devi paragonare ai giocatori normali perché se lo paragoni ai giocatori normali lui eh che giocatore è questo mi dovete dire l'attacca maremma maremma cazzo l'attaccante deve tirare in porta deve tirare in porta l'attaccante la porta la porta non me ne frega nulla sicuro ciao Grazie a tutti.